ciao a tutti oggi prepariamo uno dei piatti più caratteristici della cucina pugliese ed in particolare della cucina barese cioè della mia città la città di pari che sono le strascianate con le cime de rap le strascianate sono le orecchiette le cime de rap cioè le cime di rap sono queste mi raccomando perché ho visto spesso su programmi di cucina anche su in tv o al supermercato che parlano di cime di rap quando sono solo foglie e la cima è questa la cima di rapa vera è questa ed è caratteristica del periodo invernale questo piatto può essere preparato tranquillamente anche con i classici fiarelli con le cime di rap con le rape in foglie cioè solo con questa parte che trovate più facilmente nei mercati quando non è periodo ma l'originale piatto prevede la cima perché dovrà assogliersi in cottura e diventare una crema con le orecchiette io le ho pulite ho lasciato le cime intere ho eliminato la parte dura del gambo e la parte più tenera lo incisa a croce in modo che in cottura tenderà a lasciarsi meglio anche all'interno e invece le foglie un po più dure io semplicemente tagliate a pezzettini prepariamo insieme un po' di più Grazie a tutti. Le orecchiette sono pronte, vi consiglio un gelino di olio a crudo e non vi nascondo che è il mio piatto definito in assoluto. Ecco, devono essere così, cremose e deliziose e fumanti. Alla prossima ricetta, a voi e alla Puglia. Ciao!